Sarà inaugurata alle 18 di venerdì nella sala Umberto Veruda di Palazzo Costanza in piazza Piccola 2 la mostra Il Vecchio e il Mare, in marina di pittori tristini tra 800 e 900, realizzata dall'Associazione Confero dei Balfi, da sempre al fianco delle persone anziane non nato sufficiente e loro famiglia, di cui quest'anno ricordi 25 anni di attività. 38 quadri eseguiti da 26 tra i maggiori pittori tristini, attivi di a gran parte tra la fine dell'800 e il primo di 900, offrono un percorso prezioso ed emozionante attraverso il fortunato genere pittorico della Marina Trieste. Le opere sono state messe a disposizione da collezionisti privati e sono quindi normalmente preclusi al grande pubblico e in molti casi finora inedite. Tra i 26 pittori in mostra non mancano i specialisti del genere come Fulmiani, Grimani e Barison, oltre al grande interprete Testino della Laguna Veneta, Pietro Fra Giacomo, ma poi il richiamo del soggetto mare e la costante fortuna commerciale del genere hanno indotto quasi tutti i pittori a misurarsi con esso. Si vedranno in esposizione quadri di Cambon, Croato, Levi, Rwosti e molti altri. La mostra si inserisce in una tradizione ormai consolidata da anni di promozione da parte dell'associazione dei Balfi e di alcuni appuntamenti fissi e di serie di eventi. L'esposizione sarà aperta con ingresso libro fino alle 3 di novembre tutti i giorni dalle 10 alle 13, 17 e 20 e dalle 5 alle 13 ottobre in occasione della Barcolanda con un radio continuato dalle 10 alle 20.